buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 6 luglio 2024 e cominciamo la nostra trasmissione facendo gli auguri a tutti coloro che si chiamano Maria Maria è un nome molto molto comune ma il nome ma la Maria di cui parliamo oggi è una Maria particolare perché si riferisce a una persona molto molto vicina a noi una persona marchigiana ed ecco qua la grafica vediamo subito è Santa Maria Goretti Santa Maria Goretti nata nel 1880 a Corinaldo vittima di un femminicidio come si dice oggi allora non si parlava così ma la sostanza è quella fu uccisa con 14 pugnalate da Alessandro Serenelli un giovane che si era imbaguito di lei e Maria morì dopo 20 ore di agonia perdonando il suo aggressore quindi veramente una santa che fece della purezza la sua diciamo così la sua caratteristica la sua indole di vita Santa Maria Goretti è una santa ancora molto molto venerata al giorno d'oggi a Fano la santa della parrocchia di Sant'Orso chiesa che a lei è stata dedicata bene questa è Santa Maria Goretti ora passiamo alle previsioni del tempo avremo un weekend prettamente estivo con il tempo soleggiato nel complesso stabile comunque un bel tempo con possibili addensamenti però nuvolosi pomeridiani a ridosso dell'Apennino le temperature sono in aumento rispetto a ieri venti la minima 32 la massima ma anche qualche punta di più i venti da est e sud est sulle coste da ovest e sud ovest nell'entroterra il mare leggermente mosso il sole sorto alle 5.31 e tramonterà alle 20.52 ed ora passiamo alle notizie del giorno oggi facendo un po' la spola tra il Corriere Adriatico e il resto del Carlino perché le notizie un po' si assomigliano e vediamo subito l'apertura che appare sul resto del Carlino dove si parla di un provvedimento che ha assunto la nuova giunta la giunta Ser Filippi aveva promesso che in breve tempo avrebbe riaperto la passeggiata di Sassonia interrotta dai lavori per la nuova configurazione dell'ex anfiteatro Rastat e così è accaduto questa volta le previsioni sono state rispettate aperta la passeggiata Sassonia stoppa i lavori ora per tutta l'estate i lavori poi riprenderanno a settembre ma al momento è stato messo in sicurezza il cantiere della zona antistante l'hotel Cristallo ci sono stati coperti con dei teli azzurri la parte che ora non è fruibile però insomma la passeggiata ora è percorribile soprattutto dai disabili i quali altrimenti sarebbero stati costretti a transitare su viale adriatico ecco l'articolo che appare sul resto del Carlino Sassonia aperte terrazza panoramica e passeggiata la promessa è stata mantenuta da due giorni nell'area dell'ex anfiteatro Rastat è sparito il cantiere per far posto a turisti e cittadini e beh insomma non è stato possibile terminare i lavori prima dell'estate ora si cercherà di fare meglio del resto questo è un problema che la nuova giunta è ereditato dalla vecchia e ora si cercherà di così fare il meglio possibile per dare un'immagine diciamo così un'immagine qualificata delle lungomare di Sassonia che è uno dei lungomari più attraenti della nostra riviera vediamo anche le altre notizie che riguardano sempre i lavori pubblici ecco sul Corriere Adriatico piazza Andrea Costa lavori non stop qui i lavori non si interromperanno durante l'estate però gli ambulanti rimangono infatti ieri il sindaco insieme all'assessore ai lavori pubblici Gianluca Ilari ha dato comunicazione che tre postazioni di ambulanti invece di essere trasferiti in piazza avveduti dove sono stati trasferiti gli altri ambulanti che risiedevano in piazza Andrea Costa perché lì poi sono stati effettuati gli scavi per gli scavi di carattere ecologico ebbene questi tre ambulanti saranno spostati sì ma rimarranno sempre in piazza Andrea Costa saranno spostati nella zona prossima a Viale Arco d'Augusto per intenderci dall'ingresso del ufficio Tributi verso Via Arco d'Augusto ecco saranno spostati in quella zona perché lì la superficie ormai si è consolidata e quindi può essere resa fruibile per intenderci la zona è proprio quella ritratta da questa fotografia vediamo qui la pescheria e qui la zona dove potranno essere risistemate le bancarelle e poi c'è Viale Battisti Viale Battisti un colpo di spugna sulla piazzetta che sarà da ridisegnare perché il progetto che è stato ridato impederebbe ai grandi yacht che scendono da Viale Battisti per girare in Viale Adriatico e poi raggiungere il porto di Fano non avrebbero potuto girare perché lì poi ci vuole un determinato arco di circonferenza per permettere a questi grandi trasporti eccezionali di proseguire sulla strada da ridisegnare la parte finale dell'arteria per il passaggio degli yacht e poi ieri c'è stata la conferenza del venerdì del sindaco sappiamo come il sindaco Stelfilippi ha ripreso l'abitudine di un incontro settimanale con la stampa ogni venerdì ci sarà un tema particolare particolare per parlare per così comunicare alla città ebbene ieri il sindaco ha desonato il conferimento di alcune deleghe a quattro consiglieri comunali sistemata la giunta ripartite le deleghe quelle con il portafoglio ebbene il sindaco ha dato altri compiti ai consiglieri comunali questa volta non gestiranno soldi però insomma si interesseranno di diversi lavori e chi sono questi quattro consiglieri? sono Davide Pieretti della Lega che ha ricevuto la delega delle politiche giovanili sono Luigi Scopelliti della lista civica Fano Cambia Passo che ha avuto la delega date le sue competenze e anche i suoi interessi della Smart City ovvero della città intelligente e poi Marco Bavosi di Fano Cambia Passo oltre ad essere vicepresidente del Consiglio Comunale seguirà i temi della pace, della memoria e della legalità temi che erano stati affidati in passato a Samuele Mascarin della lista civica in Comune Maria Flora Gianmarioli attrice ed ex presidente della Carnevalesca invece si interesserà della Fondazione Teatro non farà parte del Consiglio ma curerà i rapporti come consigliera comunale tra la Fondazione e il Comune stesso e quindi potrà seguire tutta la vicendarsi tutta la programmazione che si farà poi anche per la prossima stagione vediamo ora le notizie di Cronaca c'è stato l'interrogatorio dell'imputato di tentato omicidio conseguente ad una lite che si è verificata nei giorni scorsi a notte fonda sul lungomare di Torrette tentato omicidio l'arrestato fa scena muta si tratta di un 42enne residente in Toscana che era in vacanza a Fano per trovare i familiari ebbene era in compagnia di una donna c'è stato invece un altro fanese si chiama Donald Schiavo abbiamo visto come il Carlino ha riso noto la sua identità nella giornata di ieri ebbene lui ha fatto un apprezzamento non gradito alla donna e quindi il 42enne che era con lei ha reagito e ha reagito in maniera molto molto vehemente insomma una reazione violenta possiamo dire i due se le sono date veramente di santa ragione ma alla fine ha avuto la peggio il Schiavo il Donald Schiavo che è stato colpito più volte anche quando era a terra con calci alla testa per questo ha dovuto essere ricoverato prima all'ospedale di Torrette in rianimazione e poi all'ospedale di Fano ora è ancora in coma farmacologico l'arresto è stato convalidato ed è stata disposta dal magistrato la misura dei domiciliari degli arresti domiciliari vediamo come l'uomo è difeso dal avvocato Enrico Cipriani ex consigliere comunale di Fano vediamo anche come il resto del Carlino tratta l'argomento lo pone in apertura tentato omicidio arresto convalidato Schiavo in coma spuntano nuovi particolari sui fatti di Torrette Donald estubato era stato intubato quindi ora sembra che respiri un pochino meglio ora si attende il risveglio ebbene c'è anche una dichiarazione di Cipriani del suo avvocato ho trovato il mio cliente fortemente provato da due notti insonni molto scosso per quanto accaduto tumefatto e in una condizione psicologica complessa perché è chiaramente preoccupato delle condizioni di salute dell'altro soggetto Cipriani difende il 42enne che appunto ha reagito in maniera violenta agli apprezzamenti di Donald Schiavo che vediamo qui in una fotografia e poi c'è anche un'altra notizia di carattere politico che il resto del Carlino riporta di spalla così come poi fa il Corriere Adriatico si tratta di una mozione di una mozione che ha presentato un esponente della maggioranza si tratta di Davide Del Vecchio che fa parte del gruppo consigliare di Fratelli d'Italia il quale comincia ad attivare l'attività del Consiglio Comunale presentando lui stesso una mozione alla Giunta e questa mozione intende far sì che la Giunta cominci a esaminare sul serio la problematica delle opere compensative che Terna la società che si è incaricata di realizzare l'Adriatic Link quel grande elettrodotto sotterraneo che dovrebbe collegare le marche con l'Abruzzo passando poi sul fondo del mare dalle parti di Metauriglia ebbene Terna si è dichiarata disposta a investire 12 milioni sulle territori e questi 12 milioni devono essere finalizzati il comitato di Carrara ha presentato delle legittime istanze al Comune e ora il Comune deve decidere come ripartire come finalizzare questo tesoretto che ha a disposizione e insomma Davide Del Vecchio lo fa in maniera piuttosto decisa insomma non aspettiamo altro tempo non la blaghiamo oltre in modo che il Carrara soprattutto abbia quello che l'espetta perché Carrara poi con il territorio cucurano ovviamente Carrara falcineto è il territorio che più è stato penalizzato dai lavori che sono stati fatti in modo particolare per l'ampliamento della centrale elettrica opera Carrara la giunta agisca in fretta ha dichiarato Davide Del Vecchio vediamo ora le altre notizie ricominciamo dal Corriere Adriatico passiamo passiamo a un altro fatto di cronaca si parla del palpeggiatore che aveva palpeggiato una una ragazza di 22 anni fanese episodio è venuto il 2 giugno scorso il palpeggiatore potrebbe ripetere il reato così il PM ha chiesto la misura cautelare confermato il bracciale elettronico si era spogliato davanti alla ragazza l'aveva palpeggiata e ieri c'è stato l'interrogatorio di garanzia per questo 37enne fanese operaio accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 22 anni per questo episodio che è avvenuto nei primi giorni del mese scorso all'uomo è stato applicato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla nonna con la prescrizione di mantenere una distanza dalla stessa ovunque si trovi di almeno 500 metri questa è un po' la prescrizione che si usa in casi del genere e poi ha avuto per fare rispettare questa distanza il braccialetto elettronico e l'uomo è comparso davanti al jeep però insomma si è avvalso della facoltà di non rispondere quindi non ci sono particolari su quanto accaduto prove a tre campo largo le opposizioni si alleano a Monteporzio i consiglieri di San Lorenzo Monteporzio San Lorenzo e San Lorenzo in campo Monteporzio e San Costanzo si pongono insieme per far scaturire nuove sinergie e quindi collaborare insieme prove di campo largo nella Val Cesano dice il Corriere Adriatico giovedì sera si sono ritrovati per un primo confronto con i consiglieri comunali i candidati sindaco di San Lorenzo San Costanzo Monteporzio che ora sono all'opposizione dei loro comuni e a Marotta intanto sono partiti i lavori per il campo sportivo comunale una struttura che viene finanziata dall'amministrazione comunale per un importo considerevole quasi un milione di euro 940 mila euro ma il campo verrà rifatto completamente ed ora procediamo in maniera veloce vediamo l'articolo che appare a Senigallia la banda del campanello colpisce blitz in due case fuga con oro e soldi ancora furti ancora furti riporta la cronaca questa volta sono accaduti nei comuni di Tre Castelli e Corinaldo la banda usa la stessa tecnica quindi probabilmente è la stessa suonano e se non c'è nessuno entrano due nuovi furti ieri mattina dopo quelli avvenuti giovedì scorso il capitano della compagnia dei carabinieri di Senigallia ha chiesto la collaborazione dei cittadini questo è molto importante perché i cittadini possono segnalare la presenza di persone strane di persone che hanno degli atteggiamenti sospetti che controllano le case che si soffermano a lungo davanti ad un'abitazione che magari controllano se il proprietario esce quando esce quanto tempo sta fuori in modo poi da fare i loro colpi nei momenti in cui l'abitazione è deserta e quindi si procede anche in maniera preventiva comunque nella mattinata di ieri i carabinieri del nucleo radiomobile di Senigallia sono intervenuti in questi comuni dove sono stati consumati due furti in abitazioni che erano in zone periferiche quindi un pochino più isolati vediamo anche le pagine di Pesaro per quanto riguarda le marche si parla delle mucillaggini un problema che coinvolge bagnini e albergatori i quali ricordano l'emergenza degli anni 80 della fine degli anni 80 molto molto problematica che suscitò un grande allarme allora anche dal punto di vista ambientale anche se poi ragioni di carattere ambientale non ce n'erano e non ce ne sono perché non si tratta di un inquinamento ma di un fenomeno naturale dato alla proliferazione di alcune alghe vediamo la pagina di Pesaro eccolo dunque quella pagina di Pesaro vediamo qua eccola qua si parla di piazza Redi o nuova piazza Redi stringiamo un patto comune condomini Biancani il nuovo sindaco propone di rifare la pavimentazione di questo centro nevralgico della città di Pesaro la pavimentazione sotto i portici noi mettiamo i soldi ma pure i privati devono contribuire ora o mai più è un po' l'out out che ha detto Biancani insomma ha cominciato con una certa decisione un certo piglio per risolvere dei problemi che magari erano annosi intanto lavori anche per quanto riguarda gas e acqua si parte lunedì in tre momenti in tre step in tre gradini sulla carta dureranno almeno sei mesi ma Marche Multiservizi proverà a velocizzare a renderli più più veloci ebbene sono un milione di euro che verranno finalizzati verranno impiegati su piazza Redi ed intorni per un massimo di 50 giorni in questo periodo ci sarà un divieto di sosta appunto nella zona perché poi i lavori devono svolgersi regolarmente allora passiamo al resto del Carlino abbiamo visto alcuni titoli già sulle prime pagine vediamo ora quello che si dice per quanto riguarda le manifestazioni le iniziative di questo fine settimana sappiamo che in questo periodo Fano è immersa nell'atmosfera medievale si stanno svolgendo infatti i giochi dei Malatesta il Malatesta a Fano con degli spettacoli molto molto seducenti molto molto così belli perché si ritorna in un'atmosfera antica dal Pincio alla Piazza 20 Settembre e poi anche la Darsena Borghese poi il Sagrato del Duomo dove oggi si celebrerà il ricordo del matrimonio di Pandolfo III Malatesta e Paola Bianca e poi l'arrivo dello sposo sulla Darsena Borghese insomma c'è tutta una serie di rievocazioni intanto si parla del Medioevo anche la Rocca Malatestiana per uno spettacolo molto originale si parla di San Francesco San Francesco è una delle figure principe del Medioevo viste nel XIII secolo un monologo di battute laudi medievali intervallati da musica e di strumenti antichi attraverso i quali l'attore nei panni del poverello di Assisi che fa metta nudo lo spessore di una figura che ancora è molto molto amata al giorno d'oggi ebbene domani sera alle 21.15 sbarca la Rocca Malatestiana fra San Francesco la star del Medioevo il monologo è con Giovanni Scifoni portato in città da Massimo Pugliani in collaborazione con Eclissi e Venti questo è quanto afferma oggi il resto del Carlino vediamo anche la pagina di Urbino Gambini Tacce Giunta Mistero oggi il Consiglio ebbene ancora ci sono delle pedine da sistemare nella nuova amministrazione comunale della città Ducale sicuramente fuori dai giochi è l'ex vice Cioppi ma gli ex assessori poco votati chiedono posti ed è un dilemma questo che dovrà risolvere il sindaco Gambini che vediamo un po' indaffarato nella sua nuovo incarico al terzo mandato come sindaco di Urbino ma vediamo intanto il viso soddisfatto del sindaco Nicola Barbieri sindaco di Mondolfo perché è riuscito anche a terminare un'opera pubblica di notevole importanza la ciclopedonale è terminata la pista da Centocroci a San Gervasio ormai è una realtà un progetto del quadro economico di oltre 200.000 euro sicurezza e comodità ebbene migliorano le condizioni dei pedoni di chi si sposta in sella i suoi pedali e poi questa nuova pista ciclabile è un po' un itinerario che si incastona moltissimo in quegli itinerari ciclabili che percorrono tutta la provincia tra valli colline montagne in un paesaggio molto molto vario e molto bello da pedalare e da ammirare questo è quanto si può fare in bicicletta vediamo anche alcune pagine di Pesaro del resto delle Carlino che disastro il CUP accidenti prenotare veramente medicine prenotare visite prenotare prestazioni è molto molto difficile il CUP non funziona nemmeno nelle farmacie e al telefono è una odissea ebbene un nuovo allarme che viene così evidenziato dalla stampa da un lato il servizio di prenotazione è ancora KO dopo il presunto attacco degli hacker dei giorni scorsi dall'altro l'attesa alla cornetta è infinita e il risultato spesso è disastroso bisogna stare così al telefono tanti tante decine di minuti e poi alla fine magari cade la comunicazione e bisogna ricominciare da capo rifacciamo Piazza Redi l'abbiamo già detto il patto con i residenti del sindaco Biancani e poi ancora a Torraccia arrivano le motoseghe saranno abbattuti 126 alberi di cui 72 sono anche di specie tutelate tutto per i lavori della pista ciclorotellistica che ha finanziato l'amministrazione comunale la quale poi ha ripromesso di piantarne 197 alberi da un'altra parte per così compensare l'abbattimento dei 126 che saranno appunto abbattuti e poi 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 voglio no qui questo articolo è importante questo qui di di Pesaro perché parla di Villa Fastigi donazione al carcere una nuova pavimentazione per il cortile dove le donne recluse fanno sport è stato un importante servizio che è stato fatto al carcere femminile dove le donne potranno usufruire anche di uno spazio all'aperto sempre all'interno della prigione dove potranno fare dello sport e godere di una un periodo di aria in una situazione migliore rispetto al passato tutto questo grazie alla UISP e a FAR costruzioni che hanno dotato lo spazio interno di piastrelle anticaduta per le attività femminili è un pavimento un po' sofficio un po' morbido che evita poi se qualcuno cade di farsi male e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento a lunedì prossimo alle 7 intanto vi auguro un buon weekend ci sono tante manifestazioni quindi sarà un bel weekend d'estate al mare e un po' anche in città grazie per l'ascolto a risentirci